Best for Soil. Biofumigazione. Informazioni pratiche, vantaggi e svantaggi. Ciao, mi chiamo Vincent. Da 15 anni conduco ricerche sulla biofumigazione. In questo video di Best for Soil vi sono molte informazioni su questo metodo di controllo delle malattie che è stato sviluppato per sostituire la fumigazione chimica del suolo. Quindi, cos'è la biofumigazione? La biofumigazione è l'uso di specifiche piante di sovescio che contengono sostanze chimiche che si trasformano in gas tossici dopo l'incorporazione nel suolo. Questi gas possono aiutare a controllare le malattie trasmesse dal suolo. In realtà, le brassicacee e le senapi in particolare e le specie del sorgo sono le più importanti colture da sovescio utilizzate per la biofumigazione. Le senapi contengono glucosinolati che vengono trasformati nel gruppo più attivo di sostanze chimiche chiamato isotiocianati. Questo gruppo è ciò che dà alla senape il suo gusto forte distintivo. Le specie di sorgo contengono durrina, una sostanza che viene trasformata in acido cianidrico. Questa sostanza tossica è anche chiamata acido prussico. Per entrambi i gruppi di specie vegetali, ci sono grandi differenze varietali riguardo al contenuto delle sostanze tossiche. La ricerca sulla biofumigazione è stata una risposta all'eliminazione graduale del brumuro di metile, un fumigante chimico ampiamente utilizzato. Le attività di ricerca sono iniziate in gran parte negli anni 90. Per far funzionare la biofumigazione devono essere utilizzate cultivar con una elevata produzione di biomassa e un alto contenuto di sostanze specifiche. Quando si coltivano brassiche con un alto contenuto di glucosinolati, la coltura deve essere concimata con aggiunta di zolfo, poiché i composti del glucosinolato contengono molto zolfo. È molto importante incorporare le colture nella giusta fase di sviluppo delle piante, che è appena prima della fioritura per il sorgo o nella fase di fioritura per la senape. Le piante devono essere tritate finemente o ancora meglio polverizzate per favorire un rapido rilascio di composti biocidi nel terreno. L'irrigazione, particolarmente importante quando il terreno è asciutto, accelererà il rilascio dei componenti tossici e migliorerà anche la loro distribuzione nel suolo. Se non è disponibile alcuna irrigazione, l'incorporazione non dovrebbe essere eseguita quando il terreno è troppo asciutto. Anche se la biofumigazione si basa sulla generazione di sostanze tossiche, è un metodo naturale. Non ci sono segnalazioni di impatti negativi con questo metodo sugli organismi benefici e quindi il metodo è ampiamente accettato e adottato anche dai coltivatori biologici. L'effetto delle colture biofumiganti non è specifico. In linea di principio, isotiocianati e acido cianidrico colpiscono contemporaneamente una vasta gamma di malattie trasmesse dal suolo. Oltre al rilascio di gas tossici, le colture biofumiganti hanno lo stesso effetto delle tradizionali colture da sovescio. Stimolano l'attività microbica generale del suolo. Ciò si traduce in una riduzione del rischio di malattie trasmesse dal suolo. Maggiori informazioni si trovano nei video sui sovesci. I coltivatori di ortaggi amano i sovesci da biofumigazione perché crescono più velocemente delle tradizionali colture da sovescio. Le coltivazioni di sovescio hanno anche il vantaggio di controllare le malattie trasmesse dal suolo. Migliorano la struttura del suolo, riducono l'erosione, aggiungono sostanze nutritive al suolo, migliorano le infiltrazioni d'acqua e riducono le perdite di nitrati. Dopo oltre 20 anni di ricerche sulla biofumigazione, il metodo non è ancora ampiamente utilizzato. Ciò potrebbe essere dovuto alla complessità relativa del metodo rispetto ai fumiganti chimici. Anche l'efficacia riportata sembra essere inferiore a quella dei prodotti chimici. La quantità di sostanze tossiche generate dall'incorporazione di piante fresche potrebbe essere troppo bassa per uccidere i patogeni che hanno organi di sopravvivenza con pareti spesse che li proteggono dai gas rilasciati. All'interno di una rotazione agricola uno svantaggio di questo metodo è il rilascio di azoto durante il processo di incorporazione. Soprattutto a temperature più calde, solo poche rotazioni di colture possono combinare con successo una coltura di biofumigazione con una coltura in grado di utilizzare l'azoto aggiuntivo. Quantità maggiori di sostanze tossiche sono generate da prodotti derivati da colture di biofumigazione, come la farina di semi sgrassata. Tali prodotti sono disponibili in commercio in alcuni paesi, ma sono relativamente costosi e sono in concorrenza con le soluzioni chimiche. In quanto coltura da sovescio, ha anche gli svantaggi comuni associati ai sovesci. Le colture di biofumigazione possono essere piante ospiti di agenti patogeni o nematodi presenti nel suolo che infettano anche le colture principali coltivate durante la rotazione. In tali casi, possono aumentare invece di diminuire i rischi delle malattie trasmesse dal suolo. I database best for soil includono anche diverse specie da biofumigazione. Ciò consente di includerle nella pianificazione di rotazioni del raccolto consolidate. Grazie. 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 Grazie.